Bentornati su Fistful of Frogs con DnD, siamo Davide Nino e Davide e ti stiamo lamentando perché io miro in una parte e il tizio mi spara dall'altra, ma va bene così. Salutate ragazzi, fate sentire la presenza. Aspettate che voglio uccidere Nino col pistolino, perché basta con sto cazzo di pistolino. Giù te lo faccio ingoiare. Ma che poi ti denunciano per attiosceni in luogo pubblico Davide. Non ci arrivo. Con minorenni. Mi hai dato un calcio in faccia, sei una persona orribile. Io ho mirato ai maroni, quindi non so lei sa la faccia da cazzo, però le dico. Ho preso il macele. Vediamo quanto durerò. No, a me non capisco. Io muoio con un colpo, agli altri gli devo sparare quattro colpi in testa e il massimo che faccio gli faccio volare il cappello. Ragazzi, ho fatto cagare anche col macele. Ma perché c'è qualcuno che spara così veloce? Basta, raviglio pure io questo. Aia, aia. Eh, vabbè. Adesso ti ho sparato due colpi, uno di fucile e uno di pistole e non sei morto. Quanta vita ti ho lasciato? 38. Eh, credi che non è possibile. No, mi sono schiantato fuori dalla mappa. Continuiamo con la nostra doppietta. No, la doppietta è buona, però cazzo ci mette una vita a ricaricare. Ok, ho sparato due colpi di doppietta. Vabbè, non l'ho preso in testa, però santo Dio. Non sta con sto ginseng, fraccia. Doom, doom. Ma, allora, vedete, poi non si stupisca se ci sono solo nei video, eh? È vero che non lo utilizziamo come cosa, anzi, rinvitiamo sempre per capire il nostro significato, guardatevi il video di Louis CK. Faggot. Oh, minchia, ma che salti fa? Trovato un cazzo. Dai, ti faccio i cazzi suoi. Eee, cosa mi prendo? Sì, ma zero è fusta qua. No, cazzo, anche quella è figa come arma. Spero di non incontrarti. Io ho appena trovato qualcuno a noi familiari. Cioè? Bellissimo sto fucile. No, ok ragazzi, questa è la mia arma preferita. c'è la pompa è tosse. Come per l'E4D? Eh, ha pochi colpi, sembra. No, sti cazzi ha pochi colpi. Quanti colpi ha? Due, tre, quattro, cinque, sei colpi. Ah, sì, perché prima l'avevo preso scarico. Cosa cazzo ridi? Cosa cazzo stai ridendo? No, mi hanno ammazzato. Ma perché non spara? Ma che cazzo ne so. Ma non sparava. Ma non è vero, io ho sparato in faccia. No, mi sta laggando talmente tanto che io schiaccio per sparare e non spara, spara due anni dopo. Stavi ricaricando mentre tu uccidi? No, io ho schiacciato, invece l'avevo schiacciato due minuti fa il tasto per ricaricare. Questo l'ho preso a cazzo, lo ammetto. Ahia va. Ecco, due colpi di canne mozza in testa e non è morto. Ah, poi un'altra cosa che, almeno personalmente, mi dà fastidio di questo gioco è lo sviluppatore. Perché? Ah, ok. Cioè ragazzi, è un ragazzino. Sembra di avere a che fare con un ragazzino. Perché? Voi scrivete, eh, il gioco non mi piace. Lui, ah, perché rispetto che il gioco non mi piace, c'è una persona cattiva, allora nessuno vorrà il mio gioco. Ma va? Ragazzi. Mamma, ho ucciso socio. Ora, non so se riuscirò a trovare il... l'aggiornamento che lui ha mandato, perché ragazzi, questa cosa lui l'ha mandata tramite aggiornamento di Steam. Ma davvero? Ma dai, se quella che ho letto io era un semplice sfogo per quelli che lo attaccavano in ritratamente. E che cazzo? Ma dai, ma ti sfoghi? Così? Eh, sì, magari... Ma se mi ha sviluppato... Sì, va bene. Mi ha ucciso di nuovo il socio. Qualcuno ha ruttato, ma non sei stato tu. Oh, quattro colpi di doppietta per buttarlo giù uno. Sì, la doppietta è... E mi ricarica due volte. Mi ricarica due volte. Io faccio sempre ricaricare... ricarica... Poi ri ricarica. Ultima volta su questo gioco, eh. L'hanno peggiorato, cazzo. Brutto, cioè... basta. Cambio arma perché... Mi sto in... Ma prima era meglio, non era così, eh. Ma prima con la doppietta due colpi... Ma io vorrei mettere un dubbio. Essendo appunto uno che lo fa così, sto gioco, io non negherei nemmeno che ci sia un mondo di trovare qualche trucchettino. Migliorare mira e robe del genere, perché... Dubito che abbia questa protezione. Davide, ma stai parlando di cittare? Eh? Eh? Vuoi fare il cittone? No, però probabilmente gli altri lo usano perché non è possibile che loro... No, non tutti, non tutti, perché... Ripetiamo che la mira è talmente a cazzo che i colpi fortunati sono arrivati anche a me. Indy, sicuramente... Non è... Aia, che male. Non è solo una questione di trucchi, almeno. Tenete conto che quando un gioco è gratuito e fatto così alla buona, la prima cosa su cui pecca è la protezione... ...dai hackkers. No! Cazzo, non ho riuscito a passarti alle spalle. Eh, lo so. Infatti mi hai messo un attimino in soggezione. Eh, però poi mi ha laggato e non ho più capito dov'eri. Sì. Sì, ecco, una cosa secondo me abbastanza importante da dire è che i server fanno tutti abbastanza a cacare. Cioè il ping medio per me, adesso mi prendete per il culo perché sembra che me la tiro, però ho la 300 della Vodafone. In alcuni giochi ho ping 12, questo meno di 70 non ce l'ho, quindi immagino che chi abbia la connessione normale, meno di 80, 90, se non 100. Infatti, cioè la cosa strana è che io ho la 20 mega e ho 86 di ping, lui ho la 300 e ne ha 70. Sì, ma mi sa che è un po' falso, perché abbiamo tutti la stessa cosa, c'è chi lagga di più o chi di meno. A me ha laggato in maniera malissima adesso, Davide. Io ti ho visto sparire giù per le scale e poi mi sei comparso a sinistra e mi hai ucciso. Credito, ho visto fermo fermo che non facevi niente, quindi boh, ho detto boh, si vuole far uccidere. Ho detto a quanto è dato. No, però è bello, nel senso... C'è un paio di molti. Come avevamo già detto fin dall'inizio, non è uno di quei giochi su cui ci passeresti 8 ore, 6 ore. No, ma se fosse più... fatto meglio, anche solo la mira, cioè... Potrebbe essere divertente, cazzo, così mi fa solo incazzare. E una volta era... paradossalmente, prima di che facessero alcuni aggiornamenti, era meglio. Cosa ti succede? Una volta eri una persona meglio. Oh, sto schiacciando? Non spara. Oh, non spara, basta. Ha deciso di smettere di sparare. Beh, è successo una cosa un po' strana. No, non mi sparare, sono io, Davide. E mi ricarica due volte. Sono io, Davide. Sono io. Ha sparato, appunto. Oh, mi ricarica tre volte di seguito adesso, neanche due. No. Maledetto! Come cazzo c'è arrivata qui la dinamite? Abbiamo usato una piccione. Ragazzi, mi stanno un po'... Mi stanno un po' girando i coglioni a sto giro. Vabbè. Vabbè, mettiamo ora così, ragazzi. Non possiamo nemmeno lamentarci più di totto. È un gioco gratuito, fatto appunto, buono. Capito, anche l'Lensworm è gratuito. Vabbè, ma l'Lensworm è fatto dalla Valve. Ma la Valve è una mod di Half-Life? La Valve, sì. Anche Steam e... e la Ubisoft. Sono tutte balbe di Half-Life. Maledetto! Maledetto! Stavo ricaricando! Avevo il pistolino solo per te! Muori, bastardo! Gameplay di merda! Guarda che c'è uno che si nascondeva tra le foglie! Il direttore! Va bene, Bushher mi ha fatto la natica. Non smettere di tirare pagiolini. Va bene. C'è gente cattiva in questo momento. Dai, 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 dai. Fucile a pompa, fucile a pompa, fucile a pompa, sì! No! Non ci morire! No, cazzo! Prossimo obiettivo, farsi che Nino non tenga il fucile a pompa. Figlio di puttana! Mori. Gameplay, ti ho preso. Ma no, mi hai preso alle spalle, maledetto. Ma che le spalle sei ritirato verso di me? E io ero dall'altro lato del canyon. Maledetto, Nino! Baffanculo! Aia! Ci godo. Ok, l'arma più OP sono i tirapugni. Torca tra io. Cosa dicevi, Davide? Eh, ma se non era Davide... Sì, Davide, se non c'era Nino prima che ti... Che ti spultiva la mia vita. No! Non riuscivo a muovermi. Ti ho ucciso io, comunque. Sì, ma non riuscivo a muovermi. No, eri davanti a me. No. No? Non eri quello davanti a me. No? Ma no! È la madonna che headshot che ho fatto. Come cazzo hai fatto? Non lo so neanch'io, ragazzi. Sì, proprio, ho girato l'angolo e ho sparato. Ti ho beccato in testa. Ma lo ammetto, lo ammetto. È stato a puro culo. Eh, questo. Quindi va bene. Ho fatto un'altra fragola. Eeeh! Eeeh! No! Che ho sto Martínez... Che... Qualcosa... Zecchi! Continua a farmi il culo. Che bastardo. Come ha fatto a beccarmi? Ah, figa! Sta grattura di merda. Eh, che due palle. Eh, ma... Mi ha ammazzato a buscere. Sta cercando di venderti roba. Eh, ragazzi. È finita anche questa. E chissà che non sia l'ultima di questo gioco. Ma io ti do un altro paio. Magari in altre modalità. Non su questo server, però. No, no. Beh, ragazzi. Salutiamoci. Ciao a tutti. Al prossimo gameplay. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Lasciatelo! 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 Lasciatelo!